E' un uomo di 51 anni, il primo paziente non più intubato nelle Marche, ricoverato dal 10 marzo scorso nel reparto rianimazioni di Marche Nord a Pesaro. A renderlo noto è il presidente della regione Ceriscioli, che ha comunicato personalmente la notizia. L'uomo non è stato curato con i farmaci sperimentali, ma con le normali terapie. Il bollettino del Gores annuncia che i decessi odierni sono 22, tra cui un 78enne di Urbino, 10 di Pesaro con età media di 79 anni, un 85enne di Monbaroccio, un 82enne di Vallefoglia, una 77enne di Fano e 4 di Ancona. Tutti avevano patologie pregresse. Il totale dei decessi nelle Marche sale a 136. I test effettuati sono 4.512, i casi positivi 1.737, 170 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono 983. I ricoveri in terapia intensiva 141, 22 in più. A Marche Nord sono 36, a Torrette 31, a Urbino 5. I ricoveri di semi-intensiva sono 140, 5 in meno registrati oggi rispetto a ieri. I ricoveri non intensivi 439, i casi di isolamento domiciliare 4.793, 385 in più rispetto a ieri. In provincia gli asintomatici sono 1.712 e sintomatici 401. I ricoveri in degenze post-critiche risultano 77, con aumento di più di 19 pazienti rispetto a ieri. I dimessi sono ad oggi 45. La Regione Marche ha indetto una nuova ordinanza a fronte dei dati in aumento al fine di evitare assembramenti di persone. L'ordinanza prevede la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta o lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche previste nell'autocertificazione. Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con il proprio animale, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione. L'ordinanza sarà valida dalle ore 24 del 20 marzo fino alle ore 24 del 3 aprile prossimo.